exultate deo mottetto di alessandro scarlatti registrato nella raccolta cinque secoli di polifonia sacra cappella musicale basilica di san marco direttore giovanni dianini questo il coro che ha registrato nel 1988 ora vedremo lo spartito e l'ascolto il coro che ha registrato nella raccolta cinque secoli di alessandro scarlatti il coro che ha registrato nella raccolta cinque secoli di alessandro scarlatti a capelo di alessandro scarlatti a capelo di alessandro scarlatti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.